delle protagoniste. Abbiamo intervistato la centrocampista dell'Empoli Cecilia Prugna e per la Roma invece l'esterno Anna Maria Serturini. Allora, prima di campionato sicuramente molto emozionante, no? Parliamo di questo campionato per te. Ti hanno cercato in tanti quest'estate e tu hai deciso di rimanere e hai detto perché mi piace il progetto Empoli. In vista di questo campionato, che progetto è quello dell'Empoli? È un progetto per me molto stimolante ed è la motivazione che mi ha portato a rimanere. Sento di poter crescere ancora tanto in questa squadra, in questa società e penso che mi piacerebbe riuscire a dare altrettanto. Naturalmente alla fine di tutto questo ci sono gli europei, ci pensi? Certo, è un pensiero fisso, è un obiettivo a lungo termine che mi aiuterà a alzare sempre di più la sticella ogni settimana. Allora, a parte un campionato ci sono grandi aspettative sulla Roma, che ha battuto la Juventus in Coppa Italia, avete alzato quella Coppa Italia, l'avete fatta vedere anche ai vostri tifosi. Con quali prospettive iniziate siete qui oggi? Sicuramente si riparte dalla vittoria della Coppa Italia e ovviamente la nostra sticella si deve alzare. È un campionato strano, tutte le squadre si sono rinforzate e quindi già da oggi dobbiamo dimostrare la squadra che siamo. Ma questo essere considerate un po' tra le favorite, diciamo, contro il dominio della Juve, vi carica o vi mette più tensione? No, sicuramente ci carica, ma dobbiamo stare con i piedi per terra, lavorare giorno dopo giorno e dimostrarlo sul campo che siamo all'altezza. Allora, possiamo dire un...